Nel 2017 continuiamo sulla scia degli anni precedenti, nell'impostazione di selezione di vini da parte nostra non cambia niente. Vini prodotti da piccole aziende agricole, per noi rimane fondamentali fatta con vino sia prodotto che con uve coltivate dallo stesso produttore. Zone vinicole storiche dimenticate da recuperare, progetti individuali che hanno a che fare con le espressioni di territorialità dei vini. Piccole cose che vanno a integrare un catalogo che in qualche maniera cerca di rappresentare questa diversità italiana che è unica nel mondo. Sono state inserite anche quest'anno una quindicina di aziende, oltre 15 aziende, tutte di piccole dimensioni, tutte con queste caratteristiche legate per noi ormai sempre di più ad un vino che è espressione del produttore. Li chiamiamo uomini vino, con le loro storie, con le loro tradizioni. Molto spesso, molte volte, semplicemente un produttore rimette in gioco la tradizione ereditata dalla famiglia, dai nonni, dagli zii, in poderi nei quali si è sempre coltivata la vita. Adesso il mercato è sensibile a queste produzioni, adesso c'è lo spazio perché questi produttori possano finalmente con dignità finire sulle tavole. Per noi è motivo di grande soddisfazione anche dal punto di vista professionale e commerciale.